Devo dire, io non vi ho presentato Amos Avaranti che è stato con noi, scusate ho parlato di un nome del primo, vi presento, non sono un presentatore, ogni tanto vi divento quelli di qualcuno, Amos è stato con noi per pochi mesi, ma questo non vuol mica dire, anche lui ha dato il suo apporto ai nomadi e io lo ringrazio per essere venuti stasera, mi fa veramente piacere, grazie Amos. Grande risaia E filare di più a più E all'orizzonte E all'orizzonte E all'orizzonte Le sono E all'orizzonte E che E si è il palazzo Ma è pareci Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.